Ho le ultime due domande per te. La prima riguarda la questione della società patriarcale. Ma non mi parlare di società patriarcale che mi viene in mente il sangue al cervello. Ecco, perché questa è una cosa che... Che in Italia ci sia la società patriarcale è un racconto fallace, fake, totale, che ci hanno propinato in queste due settimane dopo un episodio drammatico, come quello dell'uccisione di una ragazza. Cioè è una cosa ridicola, patetica, la vera società patriarcale è dove lapidano le persone, è dove una ragazza che si mette il velo viene condannata a 70 e passa frustate, questa è la società patriarcale, questa è la società dove la donna non può esprimersi come vuole.